Eccoci qua di nuovo ad Albega, seconda tappa di questo tour di manifestazioni che stiamo organizzando con i cittadini di Green Pass e con il Movimento Italia Unita di cui sono il Presidente nazionale. Siamo qui per cercare di chiedere l'abolizione di questo Green Pass che è una struttura che comunque è dittatoriale e pone delle limitazioni di libertà e in più siamo qui per chiedere l'annullamento del Decreto Legge 44 2021 per quanto riguarda lo scudo penale e civile di medici e dottori perché su questo la giustizia deve essere uguale per tutti e questo potrebbe riunire tutta la popolazione perché se qualcuno sbaglia deve pagare, questo deve essere una cosa importantissima e un punto fondamentale in questo Paese, cioè la giustizia deve essere veramente uguale per tutti.